ho modificato il mio dante perché ho capito che il c'è messo sulla cupola disturbava siccome l'ho quasi finito ho bisogno di fare delle riprese per vedere io ci ho perduto una persona che si è maledetta mare ma ma remma sia maledetta mare ma è chi l'ha ma sempre mi trema il cuore quando ci vai perché ho paura che un torino sia maledetta mare ma ma remma questa è la tomba di Dante la tomba di Dante Quando ti dei l'addio, in fondo le scale, il cor mi diventa come ti sceglierà, il cor mi diventa come ti sceglierà. Io noto che Ivan Olivieri, che ha già capito tutto e che va in Umbria in aprile, riuscisse a cucinare anche il mio Dante sperando che non si rompa, come a volte succede. La... La... Grazie.